Giovedì a Marianopoli si è tenuta un'assemblea organizzata dai sindacati Sifus e Aliconsal con tutti i lavoratori forestali. Lo slogan è molto significativo, la stabilizzazione o prima del voto o mai più. Perché purtroppo, ci dispiace dirlo, ma ad ogni campagna elettorale regionale tutti i candidati promettono la stabilizzazione dei precari. Perché sono tantissimi e sono voti. Stabilizzazione che poi non avviene mai. Voi chiedete che i forestali vengano stabilizzati. Come abbiamo detto in passato, potrebbero svolgere lavori importanti per il territorio tutto l'anno. In più, non percepire la disoccupazione che allo Stato costa. Sì, l'assemblea si è svolta su questi temi. In più è stato programmato lo sciopero generale per giorno 10, alle ore 10, a Palermo, davanti al Palazzo d'Orleans. Per dare un segnale forte e significativo a tutta la politica. Perché se non viene messo in atto la stabilizzazione dei lavoratori forestali, non voterà nessun deputato candidato. Perché oggi nessuno ha messo mano ad una sana riforma sui forestali strutturale. Abbiamo consegnato il DDL 104, l'iniziativa popolare, dove viene spiegato punto per punto dove reperire le risorse, come pagare i forestali e creare a livello strutturale e stabile la stabilizzazione dei forestali. Ricordiamo quanti sono i forestali in Sicilia. Quanti voti sono i forestali in Sicilia? Sono 23.000 lavoratori forestali e sono 23.000 lavoratori forestali che gridano a gran voce di essere stabilizzati. Questi fondi da dove potrebbero essere reperiti e in più che tipo di mansioni potrebbero svolgere durante tutto l'anno, ricordiamolo? Di protezione civile, tutelare il territorio. Ricordiamo soprattutto che noi non chiediamo aumento delle giornate solo per uno scopo di aumentare le giornate lavoratorie, ma stiamo parlando di tutelare il nostro territorio siciliano. E all'interno di questo DDL viene spiegato benissimo dove reperire le risorse, soprattutto della comunità europea, creare energia alternativa, anziché farlo alle imprese private, lo può fare direttamente la forestale e i lavoratori forestali. Vediamo su questa azione fatta dall'assessore Cracolici dove si parla di rimboschimento, che il rimboschimento può essere fatto solamente dai privati, perché non dai forestali, perché la regione Sicilia in quanto pubblica non può partecipare a questo bando. Bene, il DDL 104 può partecipare, perché spiega come utilizzare le risorse e partecipare su questa programmazione del rimboschimento di tutta la Sicilia. Quante strade provinciali e interprovinciali ci sono in stato di abbandono? Dove è la prevenzione? Che in Sicilia non c'è una legge che prevede di prevenire questi disastri climatici che ci sono. Perché? Perché si muove in emergenza e ci sono i soldini. Quanto spendiamo rispetto all'emergenza e alla prevenzione? Abbiamo avviato i lavoratori forestali oggi per i viali parafuoco? Vogliamo dare un'occhiata se i nostri boschi sono in sicurezza? Non sono in sicurezza. Questo sciopero servirà soprattutto a chiedere di portare avanti il DDL 104, ma di avviare immediatamente i lavoratori forestali per prevenire gli ingenti e la distruzione dei nostri boschi.